we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite sono uscite un sacco di informazioni aggiuntive sui veicoli del nuove skin sono state decriptate parleremo di aquaman vi farò vedere anche qualche cosa riguardante la prossima fase della mappa quindi dove comincerà lentamente ad abbassarsi l'acqua prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e ora andiamo direttamente al primo argomento di oggi è un argomento molto interessante perché parla ufficialmente di tutte le cose che verranno sistemate con la prossima patch di fortnite tengo a ricordarvi che stanno già lavorando sulla patch 13.30 quindi le prime due a 10 e la 20 sono già pronte come notiamo ragazzi ci sono dei fix su salva al mondo molti fix su il mobile quindi sui giocatori che utilizzano i dispositivi per android o ios per giocare per il battle royale invece sistemano delle cose per ps4 anche dove i replay non venivano salvati soprattutto il grande problema dello slow glider quindi a volte succede che il deltaplano rimane baggato per tutta la partita e quindi siete molto più lenti a scendere io non ho ancora provato questo bug per fortuna credo sia solo su ps4 o su console su pc non dovrebbe esserci e tante altre piccolezze quindi ci informano che tutte le cose che danno fastidio saranno sistemate e questo continua a dimostrare come lo staff stia molto attento alla community in questa nuova season e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbam così ragazzi ieri sera intorno alle 23 circa viene decriptata questa skin è una skin molto particolare vista così è un mix tra una piratessa vestita da scolaretta che però è un pochettino diciamo sul chi va là nel da nel vestirsi molto carina come schiene non capiamo almeno io per il momento non capisco quale possa essere il suo ruolo in questa season credo che non ne abbia semplicemente ma è molto curioso il fatto che sia stata decriptata con così tanto ritardo dall'uscita della pace questo vuol dire che è stata inserita molto probabilmente nella mattina di ieri o probabilmente l'altro ieri quindi staremo a vedere che cosa se avrà qualche ruolo principale oppure no probabilmente la vedremo nello shop molto presto e andiamo avanti a parlare di un altro argomento di oggi perché abbiamo sempre lui ragazzi io quando mio fratello mio fratello uguale a me guardalo lì mi faccio crescere la brava sono lui porca vacca gli addominali sono uguali abbiamo visto in questi ultimi due video news ragazzi tutte le informazioni su aquaman come ottenerlo quali ricompense ci daranno le sfide settimanali dedicate ma non vi ho ancora fatto vedere un bello spezzone di gameplay con aquaman e allora lo andiamo a guardare proprio in questo momento bello brillante con la sua parte alta arancio fosforescente e il capello wild al vento in discesa che mi fa tanto tanto appunto wild aquaman vi ricordo arriverà dopo la quinta settimana quindi dobbiamo ancora aspettarne quattro per poterlo ottenere nel frattempo invece otterremo tutte le altre cose dedicate al suo set quindi il tridente gli spray il suo backpack e poi alla fine come vi anticipavo completando 5 sfide otterremo la vera e propria skin che personalmente a me piace parecchio una bella skin così come mi è piaciuto tanto anche deadpool perché era veramente fatta bene quindi un ringraziamento sempre ad epic games è doveroso per questi per queste skin molto ben accette e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi è un altro spezzone video mentre vi parlo ve lo faccio vedere intanto come vi anticipavo ci saranno delle fasi più avanti nella season dove si abbasserà il livello dell'acqua e come potete notare molto probabilmente torneranno proprio riemergeranno le vecchie location che sono state sommerse un totale di otto location conosciute più una nuova quella dedicata appunto poi a tutto il discorso acqua ma ne approfondiremo in futuro e la cosa molto interessante come vi anticipavo è che le varie location che torneranno appunto dalle acque non saranno più uguali a come le ricordavamo tutto è stato un po distrutto l'acqua ha fatto il suo passaggio le cose sono buttate un po in giro come state vedendo e questo vuol dire anche che la disposizione del loot dei forzieri delle scatole di munizioni sarà ovviamente diverso il che vuol dire otto nuove location in poche parole riprese da quelle vecchie quindi tanta tanta roba anche sotto questo punto di vista e andiamo avanti a parlare di un altro argomento perché da qualche giorno gira questa immagine e anche ieri durante lo stream su twitch mi chiedevate tutti ma è vero che gira nella mappa un pesce mitico allora no non è vero che gira nella mappa un pesce mitico quindi è inutile che vi accaniate sui poveri squali per per ucciderli e cercare le armi mitiche però questo è un easter egg sembrerebbe che quando vi troviate davanti a uno squalo e per caso abbiate tra il vostro loot un'arma mitica se la droppate e lui se la mangia diventa in questo modo poi sinceramente non saprei dirvi se vi droppa qualcosa di più interessante al momento in cui lo killate provate non vi costa nulla magari buttategli la chag se non volete rovinarvi la vostra partita buttandogli un'arma dovrebbe diventare così e quindi appunto un piccolo easter egg davvero interessante alcuni dicono addirittura mi da squalo non mi piace come idea non mi piace ma questo sicuramente è davvero interessante e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto importante che è la flare gun ragazzi sapevamo già di averla trovata nei file di gioco abbiamo già visto un secondo e mezzo di reload 6 colpi nel caricatore 60 danni al giocatore ma arrivano da poche ore delle nuove informazioni sappiamo che al momento dello sparo con la flare gun verranno droppate due cariche due spara che sarebbero due scintille tra virgolette che esplodono a distanza di 1,82 secondi una dall'altra ci dice anche che spara veramente veloce e potrebbe esserci anche qualche effetto sul giocatore al momento dell'esplosione sembra anche che il can bounce once dovrebbe voler dire che il colpo può rimbalzare avevamo visto qualcosa di simile tantissime season fa però l'arma non rimbalzava ma esplodeva il colpo vicino al giocatore lì vabbè proprio gioco rotto sparavi a tre metri dal giocatore lo hitavi ma questi sono dettagli e tante variabili ovviamente sotto quindi aspettiamoci anche l'arrivo della flare gun secondo me entro un paio di settimane massimo tre e arriviamo a parlare dell'argomento più interessante ovviamente i veicoli io vedo tantissimi video su youtube di gente che fa dis fa sono disponibili prendono sono tutti fake non ci sono veicoli disponibili non ci sono cose strane che vengono dette le notizie ufficiali sono quelle che vi sto per dire in questo momento e la prima è che i veicoli avranno il boost quindi come tutti i veicoli di fortnite potremmo utilizzare la spinta per muoverli più velocemente tra l'altro ci dicono anche che ogni dimensione dei veicoli avrà un quantitativo di benzina dedicato che potrà usare basic principalmente vuol dire che c'è un grande differenza tra i veicoli piccoli e i veicoli grossi le macchine piccole possono sponare con meno benzina ma avranno anche bisogno di meno benzina per poter essere refillate mentre le macchine grosse e il camion sponeranno con più benzina ma avranno bisogno di più benzina per poter andare in giro nella mappa tra l'altro abbiamo anche dei dati che sono gli fps in questo caso indicati come fuel per seconds quindi il numero di benzina per i secondi il che vuol dire che i veicoli piccoli potranno essere fullati con 375 chiamiamoli litri di benzina così è più facile da capire ogni litro equivale a un secondo di movimento del veicolo fino ad arrivare magari al camion che potrà avere 333 vi ricordo anche che più è grosso il veicolo e più è difficile da distruggere e terminiamo appunto dicendo che le piccole e medie vetture sponeranno con 40 da 40 a 100 di benzina e quelli grossi da 50 a 100 i camion da 80 a 100 e come vedete di fianco ci sono anche le indicazioni per la capacità massima del serbatoio insomma ragazzi tante news anche per oggi mi sono dilungato un po troppo vi ricordo che oggi non c'è la live su twitch la domenica la ho deciso di prenderla per riposarmi vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando i like noi ci vediamo domani mattina in live su twitch alle 8 ciao